Ciao a tutte! Questo è il video di risposta ad una foto che ho pubblicato un pari tempo fa su Instagram in cui vi chiedevo se eravate interessati a questo video in cui appunto voglio farvi vedere la mia tecnica ideale per stendere lo smalto. Utilizzo uno smalto della Kiko normale che ha un... questo è azzurro numero 341 e ha un pennello medio. Allora inizio cercando di eliminare un po' lo smalto in eccesso ma neanche così tanto. Inizio dal centro, spingo vicino alle cuticole lasciando almeno un millimetro, un millimetro e mezzo e dal centro poi lo stendo sui lati. Come potete vedere cerco di fare attenzione a non toccare la pelle. Se c'è bisogno lo rintingo. Giro un pochettino l'unghia in modo da essere più precisa sul lato. La cosa importante è non mettere troppo smalto perché poi oltre a non asciugarsi bene poi c'è il rischio che restino anche magari delle impronte eccetera. Quindi piuttosto mettetene poco e poi lo ripassate dopo. Se invece la prima passata è già soddisfacente va bene così ovviamente. In questo caso se si vede qui c'è un pochettino di spazio che ho lasciato quindi poi vado con il pennellino più piccolo a rifinire il tutto. E così anche di lato nel caso non si riesca a raggiungere bene il bordo con il pennello perché è troppo grande. Vi faccio vedere anche sull'anulare da più vicino. Procedo nello stesso modo di prima. Quindi dal centro spingo e tiro. Poi lo allargo di lato girando leggermente l'unghia e poi dall'altro. Anche in questo caso prendo il pennellino più piccolo per essere più precisa sui bordi. E questo è il risultato. Sembra difficile ma in realtà basta solo prenderci un po' la mano. Quindi spero che questo video vi sia stato utile come appunto avete richiesto voi. Se ne avete bisogno qualche altro su qualcosa, su come applicare una decorazione o lo smalto in qualche altro modo fatemi sapere nei commenti. Mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale da ultimo. Vi saluto e vi lascio al prossimo video. Ciao!